Sindaco, il primo giugno si terrà questa importante cerimonia per ricordare chi con la vita ha pagato, con il sacrificio della vita ha pagato il suo eroismo. Sì, per troppo tempo quattro eroi della Seconda Guerra Mondiale sono stati trascurati dalla storia e noi vogliamo riportare agli onori della cronaca questa vicenda che è una vicenda che ha interessato la città di Pescara e la provincia di Pescara perché la vicenda di Arischia dove quattro persone, quattro giovani hanno subito il plotone di esecuzione due sono morti purtroppo e due si sono salvati grazie all'eroismo dei due che hanno sacrificato la loro vita per salvare i loro amici, i loro compagni, i loro commilitoni e quindi vogliamo fare in modo che questa vicenda venga riportata alla luce nella maniera giusta perché abbiamo degli eroi di guerra che dobbiamo per forza onorare e lo vogliamo fare il primo giugno perché il primo giugno è il centenario della nascita di Berardinucci un eroe di guerra, un eroe che vogliamo sottolineare ma insieme a lui ovviamente onoreremo gli altri tre che sono altrettanto importanti perché rappresentano un momento della storia della nostra città, della nostra provincia oltretutto uno dei quattro è stato agente di Polizia Municipale a Pescara con le Palumbo quindi ci farà piacere sottolineare questa vicenda e l'altra situazione sicuramente bella è che noi avremo insieme gli eredi di coloro che si sono salvati e i parenti di coloro che hanno salvato la vita a queste persone quindi è un momento bello, un momento storico di ricordo, di riflessione ma anche un momento per dire che ci sono degli eroi sempre nel tempo che fanno in modo che noi possiamo vivere con la nostra libertà che dobbiamo sempre ricordare non è per sempre, ma la libertà dobbiamo mantenerla